Napoli è il capovolgimento di luoghi comuni. Napoli è la vertigine del mondo. Quando cammini nella mia città non riesci ad essere obiettivo nel dare un giudizio su quello che i tuoi occhi stupiti stanno guardando. Sono confusi. Dalle immagini che ti entrano nel cuore, rimbalzano dall'anima, e poi quando meno te l'aspetti, ti ritornano alla mente. E allora Napoli che cos'è?